Musica Non ci vedo male come coltivatore diretto Ma io ci piaceremo di terra Ecco quindi Dall'edico il trattore a porti a bimbi Avete un po' di grano, un po' di fieno Io c'ho tutto Orzo Voi chiedete E io faccio il prossimo Guardate lo piano Sono a Paloccio Volete l'Orto? Vite lui a Paloccio Ma ho detto che sono qui i frigitori di palle E' vero che sono specializzati a friggere palle Sono questi Sono di guarda della stagionata Ah, le paste, non le paste Ah, ecco No, c'era già gente si preoccupava invece E' vero che non lo spiace Ok, no, non lo spiace Ok, no, non lo spiace Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.